Non bastava la crisi a rendere difficile la situazione per il turismo sul litorale romano, ci si è messo anche il maltempo, con un inizio di stagione che tra freddo e piogge ha lasciato molto a desiderare. Adesso, con l'arrivo del caldo, le spiagge da Fiumicino a Ostia, da Torvaianica a Santa Marinella, cominciano finalmente a riempirsi, ma non sarà facile recuperare l'affluenza perduta. Diciamo che visto il tempo come è andato fin dall'inizio non ci ha aiutato assolutamente. Ora sta ricominciando, grazie alla bella stagione sta riniziando a venire la gente. C'è una flessione, adesso ancora non sappiamo dire in che percentuale, però comunque un minimo di flessione c'è. Speriamo che si riprenda piano piano, andando avanti. Siamo sempre molto bassi con i prezzi, cerchiamo di fare dei menù per le famiglie, per i bambini. Ma i turisti, delusi dal tempo e dai costi, si lamentano e sempre più scelgono la spiaggia libera. Perché hai scelto la spiaggia libera? Non sembra, è libera. Quella privata costa troppo? Sì, sì. E anche i dati della Federalberg e della Confesercenti confermano che la stagione turistica ormai alle porte non sarà delle più facili per ristoratori e albergatori. Infatti sono stati bruciati 300.000 posti di lavoro e 145.000 aziende nel settore turistico e commerciale. E se le cose non cambieranno in fretta, il 2013 sarà, come ha affermato il presidente della Confesercenti, Marco Venturi, l'anno peggiore per il turismo. E se le cose non cambieranno in fretta, il 2013 sarà, come ha affermato il turismo. e il rumore della Confesercenti che la storia della Confesercenti che la storia non cambieranno in fretta,